C'è svolta la seconda edizione degli stati generali della Green Economy, è il momento di trarne un primo bilancio, poi un bilancio più sistematico lo trarrà il Consiglio nazionale che si riunirà nelle prossime settimane. Innanzitutto la partecipazione, nonostante la crisi, nonostante non ci fosse più l'effetto novità, abbiamo aumentato la partecipazione non solo alla fase di preparazione ma anche qui a Rimini. Il colpo d'occhio della sala all'apertura veramente gremita, questa enorme sala che qui non si riempie mai, in questa occasione è stata veramente piena. Penso che è interessante la discussione sul Green New Deal, anche se molto all'avvio in Italia. La necessità di superare un po' la diffidenza dell'idea che la Green Economy sia un settore marginale e non possa invece, come viene proposto dagli stati generali, essere la chiave di una nuova fase di sviluppo sostenibile per questo nostro paese. Soprattutto nella sezione economica di ieri mattina ci sono stati ampi spunti sia internazionali che europei che approfondimenti che inquadrano le possibilità che anche in Italia si possa superare questa lunga recessione puntando su una diversa qualità del benessere, sul cambiamento di modelli di consumo e quindi anche di produzione, sul superamento di alcune produzioni pesanti Brown e la loro attivazione in chiave Green e anche sui nuovi settori dell'efficienza, del risparmio energetico, della rinnovabili, della rigenerazione urbana, dell'agricoltura di qualità. Per chiudere con questa idea che mi pare abbia incontrato un largo consenso di proporre un piano straordinario per l'occupazione giovanile nella Green Economy. La Green Economy ha un elevato potenziale di occupazione e soprattutto di occupazione qualificata e giovane. Potrebbe interrompere questa fuga dei cervelli dal nostro paese che ci sta drammaticamente impoverendo offrendo nuove opportunità per un Mad Green in Italy, per riqualificare il Mad in Italy in chiave Green e sarebbe una possibilità di sviluppo importante nel nostro paese, anche curando con particolare attenzione start-up nei settori della Green Economy. Grazie per la visione!